Il risultato lo abbiamo appreso per quanto riguarda le elezioni di secondo grado della provincia di Biella, è stato a dir poco combattuto. Sì, direi una bella battaglia combattuta sul filo della lana con alcune sorprese territoriali particolari che non mi aspettavo. Comunque il risultato è netto, appena stretto la mano al mio avversario, gli ho fatto le mie congratulazioni in bocca al lupo per tutto. Qual è stato l'ago della bilancia, i piccoli territori, Biella? C'è stato forse un voto in più? Beh, pacifico. Biella non ha retto, diciamo così. Certamente la coalizione del centro-destra non può dirsi compatta, questo è il dato più eclatante e pacifico. Così è andata? Beh, è un peccato, anche perché anche il comune di Biella attendeva con fiducia a questo momento, era importante, insomma adesso staremo a vedere, effettivamente qualche frizione c'è. Io posso dire che queste saranno le elezioni provinciali, io ho chiesto al centro-destra di essere compatto, qualcosa non è andato come doveva e di qui in avanti bisognerà vedere quanto ancora reggerà la compattezza e quanto reggerà la compattezza del centro-destra. Abbiamo fatto questo appello qui, qualcosa non è andato ed è evidente sotto gli occhi di tutti e questo è il dato, di cui poi faremo tutti una serie di ragionamenti. Grazie mille. Prego. Un buon lavoro. Grazie.